La parola è il dottor Gianni Letta. Signor Presidente, profetiche e attualissime le parole di Papa Pio XII che rendono plasticamente evidente il significato di questa serata perché testimoniano di quel rammendo che il Cardinal Bassetti ha indicato come metodo per la riconciliazione e la pace e la pacifica convivenza. Aggiungo soltanto un grazie a quello che le ha detto così appassionatamente e con ricchezza di motivazioni Angelo Chiorazzo. Ma il grazie vero gliela ha dato nel momento in cui lei è arrivato qui a Mondo Migliore la signora Vanda, mamma del sindaco Crestini e Maria Regina, la figlia del sindaco. Quel grazie veniva dal cuore ed è il grazie che ci accomuna tutti nel ricordo di Emanuele e nella gratitudine a lei, signor Presidente, che con la consueta, grandissima, straordinaria sensibilità ha voluto ricordarlo, come Angelo ci ha detto poco fa nel messaggio di fine d'anno. Nella targa che abbiamo svelato poco fa, le parole che lei disse quella sera sono incise e lì rimarranno per sempre. E credo che non ci fosse luogo migliore e più appropriato per conservare quell'altissima testimonianza che lei volle rendere alla virtù del civismo e alla responsabilità e alla cultura della responsabilità che quella sera indicò agli italiani e che poi non si è stancato di riproporre continuamente in un periodo così drammatico, difficile e tormentato come quello che abbiamo attraversato. Virtù ed esempio che lei ha sempre accompagnato con l'invito alla solidarietà, all'accoglienza, alla protezione, alla coesione sociale, alla collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà. Di questo le diciamo grazie, ma la ragione per la quale ho detto che non ci poteva essere luogo migliore di questo l'ha detta proprio lei quella sera perché lei iniziò il messaggio dicendo che voleva condividere con gli italiani una bella immagine, una foto dell'Italia vista dallo spazio, dono di un astronauta che oggi è ai vertici di uno stato amico e disse il nostro bel paese proteso nel Mediterraneo è posto per geografia e per storia come uno dei punti di incontro dell'Europa con civiltà e culture di altri continenti. E qui, al mondo migliore, memori di quelle parole profetiche del Papa che l'aveva assegnato a due gesuiti di valore come ha detto Angelo per un'altra fine, un altro obiettivo qui si ripropone proprio quell'incontro quella convivenza armonica che è fatta di quella identità che lei ricordò perché le radici della nostra identità sono lì in quel Mediterraneo punto d'incontro e che hanno fatto dell'Italia quella riserva di saggezza, genio, armonia, bellezza e umanità come lei volle sottolineare. E qui la testimonianza che Angelo Chiarazzo poco fa ha dato e la presenza di tanti bambini che ci hanno accolto con l'inno di Mamelli dimostra quanto quell'incontro si possa riproporre in maniera armonica senza contrapposizioni proprio come Emanuele Cristini aveva concepito. E questa è la sintesi per cui possiamo dire che Emanuele Cristini è il simbolo come lei lo definì dell'altruismo e del dovere il simbolo dell'Italia vera che è quella dell'altruismo e del dovere e il mondo migliore è il simbolo della solidarietà dell'accoglienza, della protezione e dell'umanità. E qui si incontrarono non poteva essere che così una persona dalla sensibilità come quella di Emanuele e i ragazzi e gli ospiti di Mondo Migliore. E Emanuele Cristini divenne sindaco lo ha ricordato Angelo il 20 giugno proprio il giorno della sua scomparsa del 2016. Questo centro è stato inaugurato ufficialmente a novembre del 2016 ma già nei primi giorni del suo incarico Emanuele si trovò alle prese con questo problema che altrove è diventato drammatico che qui è diventato invece grazie all'opera congiunta dello staff di Mondo Migliore e di Emanuele Cristini che trovarono subito una naturale e spontanea sintonia è diventato un esempio ammirevole di che cosa deve essere l'accoglienza di che cosa può essere una integrazione armonica memori di quel punto di incontro di civiltà che il Presidente ci aveva ricordato alla fine e quindi all'inizio dell'anno. Emanuele è stata una testimonianza operosa di questo spirito fino alla fine poi ha pagato con la vita il suo altruismo la sua dedizione il suo coraggio il suo senso del dovere quel senso del dovere che tanti spesso dimenticano e che ci fa portare a quella contrapposizione che è il contrario di quei valori che lei non si stanca saggiamente di riproporre agli italiani e di chiedere a tutti con uno sforzo di cooperazione tanto più necessario in un momento difficile e di fronte alle incertezze del domani che sono la conseguenza naturale del dramma del Covid-19 vissuto. Io credo che l'esempio di Emanuele signora Vanda Maria Regina possa essere assieme alle parole del Presidente della Repubblica lo stimolo il richiamo il monito ad ognuno di noi perché ognuno sappia fare il proprio dovere e lo sappia improntare a quel civismo a quell'altruismo a quel coraggio a quella dedizione che Emanuele ha vissuto ahimè poco in maniera eccelsa e che deve essere l'esempio e il modello per ogni italiano che abbia a cuore le sorti di questo Paese come ha dimostrato di averle a cuore e di saperle riproporre ad ognuno di noi il nostro amatissimo Presidente. Grazie Presidente. Grazie.